Quest'anno a SPS 2016 abbiamo incentrato lo stand sul concetto di Industrie 4.0. Il visitatore del nostro stand attraverso un percorso virtuale può vivere le tre macro-aree secondo cui Bosch Rexwood identifica l'Industrie 4.0, ossia Intelligent, Adaptive e Connected. Per quanto riguarda la prima area, Intelligent, presentiamo tutta una serie di prodotti che forniscono informazioni attraverso dei sensori integrati all'interno dei prodotti stessi o a volte è lo stesso prodotto a diventare il sensore. Un esempio è la nuova gamma di motori Indradin MS2N che secondo un nuovo progetto costruttivo siamo in grado di identificare in modo ideale il modello matematico con cui esso è stato costituito. In questo caso possiamo definire o rilevare tutte le sue informazioni, quale ad esempio la temperatura del motore o la coppia che sto erogando in quel preciso istante dal motore in modo molto preciso. E questo permette ai nostri clienti di risparmiare soldi per dover comprare ulteriori sensori e integrare la macchina. La seconda macro area invece è Adaptive, quindi questi prodotti che vengono presi sempre dai nostri clienti, messi insieme e vanno ad adempire una determinata funzionalità. In questo caso l'Indra Control XM, la nuova piattaforma di controllo, ne è l'esempio e lo presentiamo appunto quest'anno in fiera. Questo hardware è unico per qualsiasi tipo di applicazione, sia che esso sia press, sia che esso sia food and packaging, printing, e attraverso una serie di funzionalità firmware che vado ad attivare si va ad adattare appunto una flessibilità del prodotto al contesto applicativo. Infine l'ultima macro area è Connected. Connected in questa macro area mostriamo come il mondo dell'automazione industriale con i propri linguaggi di programmazione standard si vada a connettere con quello che è il mondo IT, il mondo informatico, con dei propri linguaggi di programmazione più destinati alla gestione delle informazioni, di eseguire calcoli matematici molto complessi, ma spesso questi due mondi, il mondo industriale e il mondo informatico, è difficile farli colloquiare insieme. Noi attraverso OpenCore Engineering riusciamo a creare questo colloquio semplice e quest'anno in fiera non siamo noi di Bosch Rex, da spiegarlo ai visitatori, ma sono i nostri partner internazionali che lo faranno per noi. Infine, dato che lo slogan quest'anno del nostro stand è Industri 4.0, tutti ne parlano e noi la realizziamo, abbiamo voluto portare una vera applicazione sviluppata con il nostro cliente CB Ferrari, una fresatrice 5 assi che oltre a tutta una serie di nuove funzionalità che sono state introdotte, quale la visualizzazione 3D, esattamente il par program con l'asportazione del truccelo, vi sono anche tutta una serie di nuove funzionalità tra i quali il GDS, che è un software Bosch Rexroth, che permette di raccogliere un qualsiasi dato presente all'interno della macchina, ma anche di più macchine, ma non solo all'interno di un unico sito produttivo, ma diversi siti produttivi in giro per il mondo. In questo modo, raccogliendo tutti questi dati, si possono fare tutta una serie di analisi, quali analisi, ad esempio, dell'energia, analisi delle temperature, e in questo caso noi possiamo, inserendo una serie di regole all'interno del nostro software, andare a ottimizzare processi qualitativi, ma anche la manutenzione predittiva.